Siamo a un punto del campionato all'inizio dove c'erano molte incognite, la condizione, gli avversari, quindi da questo punto di vista c'è la curiosità e anche capire cosa potevamo fare. Quindi questa è la premessa che comunque questa partita è la prima, dice tutto e dice niente, nel senso che oggi questi ragazzi meritano un sincero bravo, bravissimi, hanno fatto una partita secondo me bellissima perché comunque siamo andati in svantaggio in un inizio dove forse abbiamo sentito un po' l'emozione, eravamo un po' contratti, che poi è culminato con questo gol loro che è stato un po' un fulmino al Celsereno che poteva anche creare degli scompensi, invece questa squadra ha reagito, ha fatto delle belle azioni, ha continuato a giocare come sai e come deve fare e poi ha costruito una vittoria molto bella perché veramente c'è stato il cuore dei ragazzi, la voglia, anche la qualità in alcune giocate quindi credo che dopo questa partita, premesso che i giocatori meritavano questi complimenti perché io avevo detto che in settimana che loro sono i protagonisti e oggi sono stati veramente incomiabili, detto questo diciamo che comunque bisogna prendere questo risultato con i tre punti che per noi sono fondamentali visto anche l'inizio che ci vedrà contrapposti a squadre fortissime e poi come un buon viatico per il campionato c'è molto da lavorare, oggi hanno esordito due o tre giovani anche il 2005 2005 quindi noi abbiamo questa mission e la vogliamo fare anche attraverso il gioco, anche attraverso qualche risultato e qualche partita di questo livello, chiaramente oggi alla fine poi è andato tutto bene quindi ripeto complimenti vivissimi a questi ragazzi però il campionato deve ancora come dire, delinearsi, definirsi oggi siamo molto soddisfatti, io soprattutto per i tre punti perché ci permettono intanto non dico di essere primi in classifica ma di respirare un attimo visto il calendario che ci riserva partite molto ma molto difficili